Ciao a tutti. In questo video affronterò una tigre molto incazzata, col solo ausilio del mio fidatissimo arco. Ehi ma, avete visto? La tigre è così incazzata, che è in grado di colpirmi attraverso il metallo. Lo scontro non si preannuncia affatto facile, godo godo. La bestia è rimasta incastrata, godo godo. Ehi! Brutto scroto che non sei altro, ti ho detto di saltare sulla macchina, non di salire là sopra. Scendi giù cazzo. Affronta il nemico. Ah, cazzo. Forse era meglio restare sopra. Beccate questo. Jason Brody non cadrà per colpa di un gatto che ha bevuto troppo la Tennis Quick. Se non capite cosa intendo, ecco a voi a cosa mi riferisco. Saperi che tanti bambini non ricevono abbastanza calcio nella loro alimentazione? Latte e Nesquick Plus hanno le vitamine e il calcio per nutrire la loro naturale voglia di crescere. E con il gusto di Nesquick il latte è ancora più buono. Nesquick Plus cresce la voglia di crescere. A mio parere, la pubblicità più bella di sempre. Intanto il combattimento si fa sempre ciù arcanico. Ah! Premi cici 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 cici. Lasciami il braccio, che sono pure mancino, e mi serve per altre cose. Ah! Mancato, ho deciso. Questo sarà il mio colpo finale, la kamehameha della situazione. Come volevasi dimostrare. Guardate che non l'ho detto perché sto registrando l'audio dopo aver fatto il filmato, ma perché i sensi di ragno me lo hanno suggerito. Non ci credete? Vedete quel maiale? Non credeva alle mie parole, ma soprattutto non ha messo mi piace al video. Fossi in voi ci farei un pensierino. Bye bye e alla prossima.